Puntuale come un orologio svizzero, Xiaomi lancia il Mi 10 Pro, ce l'ho tra le mani da ormai una settimana e ce l'ho già anche giocato, ma non vi posso dire come va perché ho promesso col sangue di far uscire la recensione dopo il primo aprile, quando scade l'NDA. Vi posso solamente raccontare un po' quello che Xiaomi ha raccontato nella conferenza stampa di oggi e darvi giusto qualche impressione su uno smartphone che è il nuovo top di gamma, sapete che comunque questo potrebbe essere una sorta di seme che fa nascere altri modelli da famiglia, l'anno scorso col Mi 9 Xiaomi è tirato fuori durante l'anno tantissimi modelli, questo è il Mi 10 Pro, c'è anche il Mi 10, c'è un Mi 10 Lite 5G che pensate costa 399€ lo smartphone 5G più economico del mercato, e da questi secondo me nasceranno almeno un, dopo ci saranno il Mi 10T, ci saranno altri modelli, altri N modelli perché la strategia di Xiaomi è dar sempre il prodotto più aggiornato possibile andando a prendere la novità del momento dal punto di vista tecnologico. Questo smartphone è un 6.67 pollici, tra le mie mani bello grosso, 200 grammi di peso, ben costruito, quello che mi è piaciuto di più è questo retro satinato, odio quegli smartphone che dopo 3 minuti che li tocco devo ripulirli col pannetto perché sono pieni di ditate, e questo anche se lo utilizzo non devo mai pulirlo perché dietro sembra fondamentalmente sempre bello lucido, sempre bella nuovo e anche il grip non è male. Lo schermo frontale è curvo, è uno schermo da 1200 nits, uno schermo full HD+, con refresh rate a 90Hz, è il trend del momento, visto che AMOLED, visto l'università e HDRA 10+, ci viene in mente che questo schermo potrebbe essere scopato da Samsung, e non ci sbaglieremmo, anche perché da spenta effettivamente sembra un pochino, guardate il Galaxy S10 Plus dell'anno scorso. Il buco è da questa parte dei piccolino anziché essere dall'altra, però ricorda moltissimo lo smartphone Samsung, nelle curve, nelle giunzioni, nel design, è la stessa curvatore dello schermo quando l'utilizzo sembra davvero utilizzare un S10 Plus. Ma il vero focus di questo Mi 10 Pro è la fotografia, sono due modelli, però sono due modelli radicalmente diversi dal punto di vista fotografico, perché il Mi 10 Pro è un vero smartphone fotografico, il Mi 10 normale ha qualcosa in meno e un qualcosina in più, che adesso vi racconto. Il sensore principale è lo stesso per entrambi, 108 megapixel, è lo stesso del Mi Note 10 che ha già stato lanciato, un sensore fatto da Samsung, un sensore che lavora in pixel binning, scatta a 108, scatta anche a 27. Particularità fa anche i video 8K, perché il processore all'interno, lo Snapdragon, permette i video in 8K e Xiaomi ha deciso di farli, di applicare questa modalità, che secondo noi serve veramente a poco, però vabbè, c'è, qualcuno la voleva e l'ha messa. Di fianco al 108 megapixel c'è un Superwide da 20, il Superwide è diverso tra i due modelli, nel Pro che abbiamo noi tra le mani, il Superwide è un 20 megapixel da 16 mm, quindi Superwide ma non così wide come invece il modello del Mi 10. Il Mi 10 ha un 13 megapixel di sensore, però ha un 13 mm, il 13 mm vuol dire che voi riprendete praticamente una scena leggermente più ampia, quello a nostro avviso era un vero Superwide, qua c'è più risoluzione, però si perde un pochino di angolo d'apertura. Non sappiamo, vedremo dopo se la soluzione trovata è buona, però un grand'angolo, un super grand'angolo più ampio è, secondo noi meglio è, dopo al massimo giocate voi con l'inquadratura. Questa forse è l'unica cosa in più del Mi 10 rispetto al Mi 10 Pro, perché per il resto poi sulla parte zoom il Mi 10 Pro gli dà una pista. Sono due le fotocamere, uno viene chiamato zoom, ma in realtà un 50 mm, un 50 mm dual pixel è un'ottica fantastica, perché il 50 mm viene usato per i ritratti, è l'ottica di eccellenza per tanti ritratti, per tanti primi piani, ed è isolato, un'ottica prime quindi con una eccellente qualità, niente interpolazione, niente zoom. E poi c'è un 5x nella parte alta, dovrebbe essere un 95 mm equivalente, ed è quello che effettivamente si utilizza quando andiamo a lavorare di zoom. Quindi quattro obiettivi veri, quattro obiettivi ognuno con un compito specifico. C'è quella generale, che è il wide, c'è quello super wide per le foto magari in panoramica e per l'architettura, c'è quel medio 50 mm per i ritratti e c'è quello zoom per gli ingrandimenti o anche per qualche sequenza particolare. Non c'è un'ottica macro dedicata, ma il macro viene fatto aggiungendo un elemento all'interno del sensore principale, quindi la messa a fuoco si avvicina di pochissimo, circa 4 cm, scattate anche macro fotografie. Il Mi 10, come dicevo, c'ha fondamentalmente il 108, il 13 super wide e poi c'ha due sensori da 2 megapixel, uno per il macro e quello per la messa a fuoco, per la profondità, anche lui abbastanza inutile a nostro avviso. Ok, le foto sfocate servono, ma non è una fotocamera, è un sensore. Entrambi registrano in 8K, ha anche questa funzione, forse un pochino più marketing, che davvero pratica. Il 4K sicuramente è meglio. Vi ho raccontato un po' quindi della fotocamera, del design dello schermo, altra cosa da dire, processore 875 Snapdragon, raffreddato con una lamella in grafene, secondo Xiaomi questo porta ad avere prestazioni a lungo termine, però tutte queste cose qua alla fine andranno verificate un pochino. 8 GB di RAM, UFS 3, storage 128 GB per il Mi 10 256 per il Mi 10, versione da 899 euro per il Mi 10 Pro, e appunto i prezzi, perché sapete lo Snapdragon 875 è un ottimo SOC, è velocissimo, è forse il migliore tra quelli proposti quest'anno, perché c'è l'Exynos di Samsung, c'è il Kirin di Huawei, ma lo Snapdragon l'hanno lanciato un po' dopo, però per Android forse oggi è il meglio che c'è sul mercato. E qualcosa si fa pagare, si fa pagare parecchio, perché non sappiamo esattamente quanto, ma l'accoppiata Snapdragon più Modem 5G dovrebbe costare sui 350 dollari il produttore, e questo porta il listino di questi dispositivi, anche lì che come Xiaomi ha sempre cercato di dare uno smartphone a un prezzo davvero top, lo porta a un prezzo importante. Stiamo parlando di 799, 899 e in questo caso 999 e 999 è quanto bisogna spendere per un prodotto che è oggi il top dal punto di vista fotografico di Xiaomi, quindi Xiaomi tocca i 1000 euro. Cosa manca? Manca, l'NFC c'è, il Blaster IR c'è, la batteria è 4500 mAh, con ricarica rapida, 50 Watt, wireless ricarica rapida 30 Watt, invece ricarica anche inversa, quindi ricaricate altre cose utilizzando lui. Manca la certificazione IP68, non è waterproof, nonostante non abbia una videocamera pop-up. Altre cose da dire? Beh, l'audio è importante per noi tantissimo, non c'è il jack audio, però c'è un doppio diffusore, uno è incassato qua nella parte superiore, l'altro è invece nella zona bassa, quindi Xiaomi promette audio di qualità, vedremo nella prova se è davvero così. Mi 10 Pro, 999 euro, quando l'ho comprato ci sono diversi opzioni commerciali, c'è il preordine, vi danno qualcosa in bando, non mi ricordo esattamente cosa, non ho studiato la lezione a memoria, però la cosa che vi ricordo è che chi lo compra entro maggio c'è un pacchetto, una sorta di assicurazione in più, che vi permette di riparare gratuitamente lo schermo nel caso in cui vi cada. Il Gorilla Glass è Gorilla Glass 5, non è Gorilla Glass 6, quindi probabilmente Xiaomi si vuole far perdonare di questa piccola mancanza, perché i due vetri sono praticamente identici, solo che il Gorilla Glass 6, se cade, lo schermo non si rompe, questo se cade, magari qualcosina potrebbe succedere, non è successo, però sapete che gli smartphone cadono sempre dal lato sbagliato. Quindi 999 Xiaomi Mi 10 Pro. Grazie a tutti.